Questa è la parte europea dell'Universal Studios dove hanno anche girato The Good Place e, più specificatamente parlando, quella lì è la piazza dove di solito facevano gli incontri degli alcolisti anonimi. Non so se qui stiano registrando oggi. Là c'è pure un maione. Abbiamo tutti questi posti suggestivi. Molto ostile Europa. Vedete, con queste stradine particolari. Quella non me la ricorderò. Non so perfettamente che altre cose hanno girato qui. Lì c'è la stazione, qui c'è la fontana, molto molto stile europeo. Ovviamente tutto finto, però potrebbe sembrare quasi un villaggino in Toscana, hai capito? Questo è il dietro. Ma merda, un po' che vuole. Questa è la stazione, qui dove nel film passava il treno. C'è il treno. C'è nel telefenimono il film. C'è il treno. C'è il treno. C'è il treno. C'è il treno. C'è la parte più medievalesca, diciamo. Ho appena visto uno scogliattolo nascondersi. Qui dentro. Che poi sembra lo stesso. Qui ci siamo passati prima. E qui è la parte di un castello aperto. Con le buganvie al finte. E qui si appare qui di fianco. C'è il treno. E qui dentro.